Per quanto riguarda la questione del Burka, ci sono novità? Novità importanti perché oggi in giunta abbiamo approvato una delibera dove demandiamo gli uffici a comunicare a tutte quelle che sono le strutture pubbliche quella che sarà la procedura di identificazione di chi poi vuole accedere agli uffici pubblici e ai musei. Io penso che questo sia un atto importante che chiarisce il tema delle scorse settimane. Noi non vogliamo che all'interno dei musei civici e degli altri uffici pubblici girino persone e quindi che vengono identificate all'ingresso ma che non girino assolutamente con il viso coperto come previsto dalle norme antiterrorismo del 1975 e come previsto dal testo unico di sicurezza pubblica che dice che non si può girare con caschi e con il viso coperto. Se volete venire a casa nostra e girare per le nostre città e visitare i nostri musei dovete farlo a viso scoperto.